Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, intanto mentre faccio le duo con Efestone è uscito il secondo teaser! Ieri ragazzi abbiamo visto il primo, una X, che sta ad indicare anche Fortnite stagione 10, la X con i grandi magazzini E oggi ragazzi, cattivo così il teaser numero 2, che come vedete ci mostra un robot gigante Un qualcosa assolutamente di futuristico che non assomiglia di certo al robot che siamo abituati a vedere Ma che potrebbe comunque essere connesso con il robottone dell'evento Io ragazzi non so cosa dirvi, ma le vostre teorie, qua sotto nei commenti Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi siamo in live! Ciao! Ciao! Ciao!